Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati su Casco Rosso in un video atipico che non era in programmazione, un video news, non mi capitava di farlo da un po' di tempo, e dove parliamo un secondo, cerchiamo di capire cosa sta succedendo perché è notizia delle ultime ore, anzi praticamente gli ultimi minuti, che Dorna avrebbe questa intenzione di inserire le Sprint Race dal prossimo anno per tutti i Gran Premi. Quindi fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Dunque, per cominciare è importante mettere le mani avanti, ovvero non ci sono certezze, non c'è nessuna sicurezza, al momento dagli articoli che emergono parrebbe essere un'idea già abbastanza avanzata, poi vedremo anche perché probabilmente, ma non ci sono certezze di nessun tipo, i piloti a quanto pare non sono ancora stati consultati, si dice, almeno ho letto, che la maggior parte dei costruttori sarebbero d'accordo, quindi anche i termini, è tutto molto nebuloso. Però effettivamente questo è un qualcosa che è già da un po' che si sta parlando, no? Pensate soltanto al sondaggio che aveva lanciato Dorna per sapere un po' le opinioni dei fan sulla MotoGP, lo chiedevano esplicitamente se si volevano delle Sprint Race. In generale sono un po' di mesi, forse addirittura già più di un anno che sento parlare delle Sprint Race in MotoGP perché da quando probabilmente sono state messe in Formula 1 c'è questo desiderio di traslarle anche in MotoGP. Ma di cosa si tratta? Se non siete familiari con questa terminologia, semplicemente sono delle mini gare, se vogliamo chiamarle così, che andrebbero a quanto pare al sabato pomeriggio, dove la differenza con una gara normale appunto è che avranno un numero di giri inferiore a quanto pare poco più della metà della gara classica della domenica, quindi immagino che ne so, una gara di 25 giri avrà magari 14-15 giri, la Sprint Race, non lo so, e assegnerà a quanto pare la metà dei punti. Non è chiaro se dalla prima fino alla quindicesima posizione, quindi se il quindicesimo potrà a casa mezzo punto invece che uno, oppure se non la Sprint Race, che ne so, solo i primi dieci andranno a punti, non lo so, però dicono metà del punteggio. Queste sono le informazioni che abbiamo al momento. Ora, perché fare una cosa del genere? Io penso che Dorna si stia rendendo conto che la MotoGP, da quando non c'è più Valentino Rossi e da quando manca anche l'altro grande pilota degli ultimi anni, ovvero Mark Marquez, ha subito sicuramente un calo, per non dire magari un tracollo in termini di share, in termini di interesse da parte del pubblico, partecipazione ai circuiti, c'è stato anche il coronavirus di mezzo, insomma tante cose che ne hanno sicuramente minato un po' il portafogli e che adesso cerchino disperatamente di trovare il modo per mettersi in regola, per risollevarsi, ma penso anche mettersi al pari della Formula 1, perché secondo me uno dei punti cruciali è quello lì, ovvero la Formula 1 è un po' il trendsetter del mondo del motosport, o perlomeno di questo tipo di motosport, quindi quello su pista, e pare che la MotoGP voglia in tutti i modi cercare di imitarla, vi ricordate quando si parlava anche di Team Radio, che non sono ancora stati esclusi, e occhio, in generale l'aspetto a colorizzazione della MotoGP, questo desiderio di avere personaggi famosi a bordo pista, tutto questo cercare di mettere del glamour in uno sport che glamour non è, ho detto che Nelmet ha fatto un video di recente su questo argomento, in cui mi trovo parecchio d'accordo, quindi andatevelo a recuperare semmai avete un punto di vista anche diverso dal mio e più esteso sull'argomento, però appunto c'è questo desiderio di avvicinarsi alla Formula 1, e così si rischia di andare a snaturare uno sport che non è come la Formula 1, perché io magari capisco, non so, gare della Formula 1 da 60-70 giri, magari la sprint race, non in tutti i gran premi, potrebbe essere un qualcosa di interessante da vedere, potrebbe essere un qualcosa che l'appassionato di Formula 1, abituato a vedere gare di strategia, cose di questo tipo, vedere questi piloti che iniziano e finiscono con le stesse gomme, senza pit stop, e una gara poi che dura anche abbastanza poco, magari può essere una cosa interessante. Per la MotoGP io anche proprio a livello pratico, a livello ok, va bene, o si vuole fare qualcosa per dare valore, per pompare un po' di gente verso la MotoGP, non vedo il senso, non capisco perché un estraneo alla MotoGP dovrebbe dire, ah figo, fanno gare da 12 giri, non posso perdermelo, o così come anche l'appassionato possa dire, wow, adesso posso dire due gare, anzi una e mezzo a weekend, ma è una figata, cioè non trovo proprio il nesso, il vantaggio di fare una cosa del genere, quindi già come idea proprio partiamo malissimo. Inoltre poi bisogna vedere come andrà ad impattare la sprint race nel discorso weekend e nel discorso statistiche di carriera, come faremo con le sessioni, ci saranno meno sessioni di prove, si cercherà di compensare tutto in pochissimo tempo, per fare tutte le sessioni classiche, più anche la sprint, un altro problema è, da come mi pare di aver capito, la qualifica si farà e varrà per la sprint race, ma poi la sprint race non darà una nuova griglia per la gara principale di domenica, di conseguenza cosa vuol dire? Che se uno per bandiere gialle o altri problemi fa una brutta qualifica, si ritrova a partire svantaggiato in due gare invece che una? Non mi sembra molto corretto. Inoltre per le statistiche di carriera come funziona? Quanto vale una sprint race? Verrà conteggiata nelle vittorie normali, oppure si faranno delle classifiche ibride, maggior numero di vittorie in sprint, maggior numero di vittorie normali, poi si farà la sua cosa, dove stiamo andando? Mi sembra che si stia facendo un po' troppa confusione, mi sembra veramente una soluzione raffazzonata per cercare di imitare la formula 1 e insomma non mi sta piacendo per niente e a giudicare dei commenti non sta piacendo per niente a tantissime persone. Non lo so ragazzi, per me questa non è l'idea giusta per vitalizzare la MotoGP, non voglio fare il tradizionalista che non vuole mai cambiare, non vuole mai evolversi, io stesso ad esempio ero favorevole a MotoGP Unlimited, il documentario fatto anche lì un po' per imitare la formula 1 con Drive to Survive, però effettivamente potrebbe essere un prodotto che ti porta ragazzi giovani a vedere la MotoGP perché sai serie tv ci sta, che uno lo guarda, si appassiona ai piloti un po' come se fosse tutto un telefilm, però effettivamente poi diciamo però ci sono le gare vere effettivamente, fammi un po' guardare come sono, come si svolge un Gran Premio e tutto quanto, quindi sicuramente questo genere di cose un po' più moderne che prima non si usavano potrebbe essere un modo, perché no? Però magari i modi ancora più concreti potrebbero essere cercare di dare importanza alla Moto3 e alla Moto2 che in questo momento sono due categorie così bistrattate che gli piloti stessi vogliono saltare il prima possibile per arrivare in MotoGP, non va bene, dovrebbero essere più importanti secondo me per dare anche proprio un senso crescente di carriera ai piloti e non appunto balzare da un all'altra fino alla classe regina, si potrebbe cercare di ridurre i prezzi dei biglietti dei circuiti perché 90€ il prato diventa inaccessibile per la maggior parte delle famiglie, magari fare dei pacchetti dove più gente si va meno si paga per esempio, così che si porti tante persone magari anche nuove, no? Il padre di famiglia invece di andare da solo si porta i figli e magari si appassionano anche loro per esempio. La stessa televisione, questo è uno sport di nicchia, ripeto, non viene seguito facilmente come il calcio, quindi metterlo in pay tv è pericoloso perché l'appassionato i soldi te li dà, ma quello che non sa che gli piace e non l'ha mai visto non è che va a spendere perciò vediamo, butto sti 20€ e vediamo se mi piace la MotoGP, però se fosse in diretta, in chiaro accendere la tv dà un tentativo, gli piace e poi può spendere i soldi in altri modi sempre legati alle moto, magari appunto andando a vederli in circuito se i prezzi fossero più onesti, quindi ci sono delle cose che si possono fare, è chiaro che devono partire dalla testa di Dorna e fare tutto un lavoro di, come posso definirlo, un lavoro di gruppo e di, con una direzione precisa, chiara, che non si faccia influenzare troppo da altri sport che somigliano ma non c'entrano nulla con la MotoGP e provare effettivamente a dare più personalità a questo sport che ne avrebbe già da vendere però viene comunicato malissimo, poi ovviamente io ho dato qualche idea, qualcuno magari realizzabile, qualcuna di più, voi magari ne avete altre ancora migliori quindi fatemele sapere nei commenti, in generale per concludere questo breve video quella delle sprint race mi sembra veramente un'idea da abolire, per non dire altre cose un po' più cattive, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, noi ci vedremo ovviamente dopo il Gran Premio d'Austria, sperando che non succedano altri cataclismi prima e niente dai, grazie per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piace i nostri contenuti, dai ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!